Guadagniamo online con AdNow, un nuovissimo sistema AdNetwork, quindi network pubblicitario per guadagnare con i siti internet. Questa è la home page del sito dove viene subito spiegata che AdNow è una rete privata per fare pubblicità solo per piattaforme di classe premium. È possibile trasformare in guadagno il traffico del sito grazie a dei widget innovativi ed esclusivi. La rete di AdNow riunisce webmaster con traffico di alta qualità. Per gli inserzionisti viene offerta una vasta gamma di possibilità di targeting e ottimizzazione degli annunci pubblicitari. Vediamo subito in cosa consiste questa piattaforma che mi è stata presentata proprio ieri e per farlo ho fatto una ricerca su internet. Ricerca su internet e sono finito sul forum di Mr. Webmaster dove AdNow stesse il 4 giugno 2015, quindi due mesi fa, ha pubblicato un thread dal titolo AdNow, la nuova piattaforma per guadagnare. Questa rete pubblicitaria ti permette, secondo quanto dice il team di AdNow, di guadagnare di più in meno tempo. La rete è operativa in italiano in versione beta, si possono da subito provare tutti i vantaggi di AdNow e i teaser sono scelti individualmente per ogni sito in base alle statistiche accumulate dalla piattaforma, al comportamento degli utenti e alle conversioni sui siti degli inserzionisti. Vengono mostrati sul sito solo gli annunci più efficienti e che potranno dare al publisher, quindi al proprietario di un sito internet, massimo profitto. I materiali promozionali soddisfano requisiti e regolamenti del web, si può guadagnare dunque rimanendo competitivi senza che il rating del sito venga modificato. Da seguito di test, secondo quanto viene spiegato in questo posto, su più di 50 milioni di esposizioni in Italia, i risultati in termini di CPM, quindi si parla di guadagnare in CPM, sono maggiori rispetto ad altre reti conosciute. Fra i vantaggi che presenta AdNow, secondo quello che dicono i responsabili della piattaforma, ampie possibilità di profitto, statistica facile da utilizzare, costruzione degli annunci pubblicitari intuitiva, pagamenti settimanali tramite Paypal, payout minimo di 5€ e assistenza a tutti i partner. Inoltre è presente una sezione referral, quindi per le persone che farete iscrivere vi verrà riconosciuto un 5% delle commissioni generate da quel webmaster. Trovi il link di registrazione in descrizione e intanto andiamo a vedere come registrarsi su AdNow. Prima di proseguire nella registrazione voglio farti vedere chi mi ha segnalato AdNow, si tratta di Riccardo Colli tramite il gruppo Fatti di Affiliazioni, è un gruppo che ho creato dove si parla esclusivamente di affiliazioni. Riccardo spiega che il payout è di 20$, il pagamento tramite Paypal e è stato testato il servizio per un mese per capire effettivamente se AdNow funzionava davvero. Il pagamento è stato ricevuto entro una settimana dalla richiesta tramite Paypal, ci fisso campagne variegate, forse anche più di quelle di altri network, una contestualizzazione che non è sempre precisa ma che per siti generalisti va assolutamente bene. Sempre all'interno del forum di Mr. Webmaster viene specificato che il CPM va da 0,3 a 2 dollari e tutto dipende dal traffico del sito e dallo spazio pubblicitario dove verrà posizionato il banner di AdNow. Vediamo dunque come registrarsi in piattaforma. Su Registrazione inseriamo i nostri dati e una volta inseriti i dati andiamo a confermare la registrazione e quindi il nostro indirizzo di posta elettronica. Ho aperto la mia mail e qua c'è il link di conferma per la registrazione, quindi clicco e il mio account è stato attivato. Non mi resta che fare il login e vedere un attimino come si presenta la piattaforma. Sono entrato a questo punto all'interno della piattaforma AdNow e la prima cosa da fare è sicuramente quella di aggiungere un sito internet. Quindi clicco su aggiungi un sito internet e vado ad inserire tutte le informazioni che mi vengono richieste. Quindi come andremo a confermare la proprietà del sito internet? Diciamo caricando un file. Inseriamo il nome del sito internet, quindi in questo caso mettiamo monetizzando.com. L'indirizzo del sito web www.monetizzando.com è il numero di utenti unici al mese. A questo punto clicchiamo su aggiungere sito internet. Intanto è comparsa subito una chat dell'operatore Barbara che ci stava chiedendo se avevamo bisogno di aiuto e dobbiamo andare a scaricare il file per poi andare a verificare il nostro sito internet. Quindi io ho scaricato questo file e l'ho caricato adesso nella root del sito internet. Quindi clicco su aggiungere ed effettivamente il sito risulta verificato. È in fase di moderazione, quindi aspetto che venga approvato dal team di AdNow. Cliccando sui widget posso andare a raggiungere i widget solo quando mi verrà confermato il sito internet. Quindi quando il mio sito internet verrà approvato. Come ti dicevo non ho provato personalmente la piattaforma, ho avuto un feedback piuttosto positivo da una persona che ha testato già la piattaforma. Se la vuoi provare anche tu e vuoi monetizzare il tuo sito con AdNow trovi il link in descrizione oppure puoi esprimere la tua opinione e lasciare il tuo commento su AdNow qui sotto. Ricorda di iscriverti al canale per non perdere nemmeno un video sulle opportunità di monetizzazione che offre il web e su come guadagnare online. Buon guadagno e al prossimo video.